Ciappi, allarme dei lavoratori, Zito, Movimento 5 Stelle, pronte interrogazione all'Ars. Se si prosegue in questa direzione, come denunciato dai dipendenti, il Ciappi potrebbe essere destinato a restare nel limbo, sottolinea Stefano Zito, Movimento 5 Stelle, commentando le parole dei lavoratori del Ciappi nella lettera aperta pubblicata dai giornali. Non possiamo permettere che un ente di qualificata formazione professionale della zona industriale di Priolo resti in balia del governo regionale di turno che non ha nessuna idea su cosa farci e per tali ragioni che stiamo preparando una interrogazione parlamentare all'assessorato regionale per vederci chiaro e verificare la situazione che hanno denunciato i dipendenti che sono le vere vittime della cattiva gestione degli ultimi 20 anni, continua Zito. I comportamenti razionali e clientelari di cui parlano devono essere verificati. Da qui la mia richiesta di accesso agli atti per verificare la regolarità della procedura per la selezione del direttore, prosegue il deputato regionale Pentastellato. I miei colleghi e io faremo tutto quello che sarà necessario, sempre a fianco dei dipendenti per evitare un nuovo scandalo dopo le operazioni Spartacus e Prometeo che ha coinvolto il Ciapi. Vogliamo ascoltare l'allarme lanciato dai lavoratori e correre ai ripari prima di un disastro finanziario annunciato, conclude Stefano Zito.